Milito All'indietro per Portanova che gioca ultimo uomo scambiato con Mutingai, neanche convocato, Montari, si sta trattando per una cessione, potrebbe anche rientrare nell'affare Sanchez, anche se non ci sono conferme ufficiali, sembra l'Inter in quel senso che ha fatto dei passi avanti nelle ultime volte. Pallone in profondità per Kivu che non può arrivare, ma non può arrivare sul pallone neanche Ramirez, la palla si perde in fallo laterale, rimessa in gioco dunque per l'Inter. Lucio, Cambiasso, Tiago Motta in area di rigore con Eto, ovviamente Milito, pallone che arriva verso Tiago Motta, anticipato, aveva trovato bene la scelta di tempo, era un inserimento simile a quello che aveva dato il gol a Cambiasso con il Napoli, anche se lì non era la palla ferma. Lucio la mette dentro, Milito trova il palo clamoroso al quinto minuto di gioco, la prima grande palla, gol per l'Inter. Diventa sempre pericolosa sui calci d'angolo la seconda palla, la difesa sta uscendo, l'inserimento da dietro con i tempi giusti e qui sbaglia un gol perché ormai questo qua era facile per uno come Milito trovare la porta dentro l'area piccola, non riesce a girarla del tutto. Ci sono anni in cui vai dentro anche se sospiri e ci sono anni in cui invece non sembra voler andarci, Milito si gira ancora, punta l'area di rigore, sempre Milito, per Eto, si libera Eto, salta due uomini, il testo di Eto, Viviano dopo l'imbalzo, ha iniziato la grande l'Inter. Si, mette grande pressione, soprattutto sui lanci lunghi del Bologna sulle punte, vengono sempre anticipate, non riescono a tenersi sulla palla e da lì l'Inter riparte sempre molto bene appongiandosi sulle punte. 21 gol in 25 partite, la incredibile media di Eto in questa stagione, tutto compreso, Viviano, cerca il rinvio, lo trova un po' sgangherato, Tiago Motta, non riesce a intervenire Gdall che poi torna con un fallo su Javier Zanetti, calcio di punizione per l'Inter. Guarda di Leonardo molto reattiva, anche sui secondi palloni arrivano sempre prima, qui c'è il fallo su Zanetti. E' pronto a battere Cambiasso, che ha allargato, mentre rivediamo qui la conclusione precedente di Eto, Javier Zanetti. Luzio. Zanetti, Tiago Motta, Luzio, delle scarpe che andrebbero bene anche di notte in autostrada. Cordoba, Chiuso, poi Cambiasso, Cordoba chiuso da Mutingai, poi riesce ad avere ancora per Milito, dentro c'è Tu, uno contro uno di Milito, prova a coordinarsi, vuole ad entrare sul destro. Eccolo, all'indietro per Stankovic, dopo il velo di Cambiasso, ha colpito di sinistro, non in piede migliore, palla alta. Bene quando le punte dell'Inter si allargano e creano l'uno contro uno, sono sempre molto bravi, qui la palla la scarica dietro, finta, la palla però arriva sul sinistro. Non si è coordinato benissimo Stankovic in questa situazione. Stankovic che apparentemente ha rotto un digiuno che durava da un anno in campionato. Rubin, 20 minuti, 0-0. Un paio di buone occasioni per Milito. Eccal. Sì, anche prima è riuscita a liberare l'uomo, arrivare sul fondo, ha passato molto bene, dentro l'area di rigore c'è un'anticipato, un grande errore. Un grande errore di Mutingai, prova a ripartire i tu con la sua velocità, Peres cerca il cartellino giallo, per fermarlo e non lo trova. E dove tornare di rigore... Deia! Stankovic, 1-0. L'Inter ne ha approfittato subito dell'errore del giocatore del Bologna. Sembrava in ritardo il passaggio di Etos, sembrava fosse finito il fuori gioco Stankovic, invece collaboratore in linea perfettamente ha convalidato il gol. È leggermente al di là, però è difficile. Difficile per... Beh, è in linea, ma secondo me non si può dire niente a guarda lì. Praticamente la punta della scarpa è sulla linea nera, che vale 3 centimetri, vuol dire che siamo un centimetro e mezzo in gioco e non gioco. Con calma l'usio. Aversanetti, Milito, lo sposta un po' a Beridos, non gli permette di girarsi. Cambiasso. Il pubblico l'aperte nell'arrivo di Divaio. Poi l'apertura e Pereto accompagna Kivu a sinistra. Eto' lo vede a di fronte a Ramirez, lo beve uno contro uno, ancora dietro in area di rigore, prova a far passare. Cambiasso anticipato, Maicon sul fondo. C'è voglia, c'è un'energia diversa dell'Inter quando è arrivato Leonardo, anche in questa situazione. Maicon si è trovato a sinistra, terzino destro, dall'altra parte andare a sfruttare questa mischia che se l'ha creata dentro l'area di rigore e trovare la conclusione sul secondo palo. E Cambiasso quando Eto' parte largo, va quasi a fare la punta praticamente. Cambiasso, tempi di inserimento perfetti. Tante volte l'apertura fa lui il centravanti, proprio non partendo da dentro ma trovandosi già lì. Fallo ai danni di Milito, calcio di punizione per l'Inter, un po' in difficoltà adesso Bologna. Milito, Maria Sanetti. Cerca il recupero di Vaio, lo aggira Tiago Motta. Per Tiago Motta si parla di una possibilità di chiamata in nazionale. Lui che ha da tempo, da quando giocava in Spagna, passaporto italiano. Stankovic, ancora per Tiago Motta, chiuso però. Ma c'è un errore ancora del Bologna, Ramirez non trova nessun compagno. Allora in verticale Milito, uno contro uno, Milito su Pritos. Milito ancora, rientra sul sinistro. Diego! Milito! Due a zero, torna a gol Milito, non segnava da 10 novembre. Quarto gol in questa stagione, credo ci sia stata anche una deviazione. Ma forse dal portiere che è riuscito a toccare questo pallone e non mandarlo fuori. La palla mi sa che si è impegnata sulla scivolata di Pritos, però posso sbagliare, vediamo. O magari Viviano, sì. No, comunque non puoi permettere di perdere dei palloni sull'altra quattro. La difesa del Bologna che rimane sempre molto alta, vedi, ha il limite. Subito palla in verticale, posizione perfetta quella di Milito. Adesso qui li vediamo nell'uno contro uno. Viviano l'ha presa, sì, l'ha toccata forse con la punta della scarpa a Pritos, ma la deviazione decisiva è quella di Viviano, che non riesce a parare. Beh, avrebbe fatto un miracolo a prendere questo pallone. Milito all'indietro. Aversanetti per Cambiasso. Cordoba. 17 nel secondo tempo, 2-0 per l'Inter. Tiago Monta. Eto' per Cambiasso. Eto' Va via Eto' in mezzo a due. Lo recupera Garic. Lo sfida ancora Eto' Ancora le finte di Eto' che guadagna metri. Poi dentro il pallone splendido per Milito. 1-2! Samuel! Eto' 3-0, uno splendido gol, qualche dubbio sulla posizione di Milito. Non penso Fabio, mi sembra tutto regolare, adesso poi andremo a rivedere. Ma qui non è stato raddoppiato, nell'uno contro uno non puoi lasciarlo da solo così. E hanno combinato molto bene, perché insomma la palla di ritorno è stata splendida. Poi lui riesce a trovare sicuramente un angolo lontano, difficile, difficilissimo per Viviano, di fatti non ci arriva. Ma guarda qui, troppo morbida. No, lo tiene in gioco Garic, credo. E' proprio Garic, il marcatore di Eto' che tiene in gioco Milito. Sì, nel momento di difficoltà l'Inter però si aggrappa ai propri campioni. E qui trova il gol del 3-0. Questo è un gol splendido. Bellissimo gol. E' in linea, però dovremmo fermarla. Dava l'impressione con l'immagine prima, il primo replay che abbiamo avuto, di essere in posizione regolare, perché Garic lo tiene in campo. Divaglio da Iepai. Protegge Ektal, Ramirez, Jimenez. Cambiasso. Tiago Motta. Eto' che qui si lascia spazio dietro il Bologna, rischia di prenderne ancora, perché Eto' e Milito si vanno in serata. Eto' ancora. C'è Stankovic, arriva Maikon. Controllo di Maikon, cross ancora. Tiago Motta sul fondo. Rischia il Bologna adesso se si apre. E' vero, perché poi da quella parte Maikon è tornato a gamba, voglia di spingere. Qui arriva in sovrapposizione a Stankovic. La palla è perfetta dietro, sull'arrivo, in corsa di Tiago Motta, che non riesce a chiudere questa palla verso la porta, calciandola di destro in controbalzo. Era molto difficile. E che bello questo gol dell'Inter. Si avvicina anche Stankovic. Stankovic ha continuato a girarsi verso la panchina di Leonardo e a fare il segno dell'abbraccio. Stanno discutendo con la panchina su chi deve tirare. Abba e tu. Samuel! E tu! 4-0. Mi sa che Stankovic si era rivolto alla panchina chiamando Gialle su stanza. Ci ha detto sto qua per abbracciarlo con l'abbraccio di Eze. Indicava Materazzi, vedi? E' vero. Abbracciato molto bene. A girare sopra la barriera, nulla da fare per Viviano. No, ti aggiorno. Sono 23 su 26. Ti aggiorno un attimo. Che giocatore, ragazzi. La barriera, due saltano, uno no. Vedi, si gira. Notpio Ramirez. La barriera bisogna aver coraggio per andarci, se non ci si gira. Della Rocca. Si scontrano Lucio e Cordoba. Sul pallone arriva Jimenez. Jimenez si addormenta sul pallone. Voleva incredibilmente guadagnare la rimessa laterale invece di provare ad andarsene. E alla fine non prende neanche quella. Standing ovation per Samuel Eto'o. Il trafander. Il trafander. Maicon. Rischia sulla pressione. Erano tutti distratti per la sostituzione e l'applauso del pubblico. Maicon, siccome svegliato all'improvviso, ha messo il pallone in pallone laterale. No, ha guardato avanti. Non ci ha messo nessuno. Ma poi ha perso il tempo per il punto che non ha voluto rischiare. Il trafersione a cercare Divaglio. Lucio di testa. Mariglia. Cerca Pandem. Portanova in anticipo. Divaglio. Contro tempo Jimenez. Arriva Garic. Vuole l'1-2. Palla ancora per Divaglio. Gira per Jimenez. Dentro è finito Portanova, che è avanzato dalla difesa. La palla è fuori invece ancora per Della Rocca. Il pin. Cross deviato. Tutti fuori tempo. Arriva Jimenez. Si libera per il sinistro. Giro. Ancora Castellazzi. Secondo me l'ha toccata Castellazzi. L'ha parata. Non dà calcio d'angolo, ma Castellazzi dice all'arbitro, lo dice lui che l'ha toccata. Anche perché ho fatto una grande parata, me la vuole levare. Guarda che parata che ho fatto, dammela. Ha fatto bene, Dio. Ha fatto bene, sì. Calcio d'angolo per il Bologna. Era bellissimo il tiro di Harry Jimenez. Primo palo, Divaglio la gira. E poi Henry Jimenez per il 4-1. Aveva lisciato sotto porta Portanova. Lì non l'ha battuta, forse non l'avesse detto. Forse era me. Adesso ci ripensa, secondo me. Beh, gesto di fair play, dai. No, no, giù. Si può stare. Portanova aveva lisciato e poi è arrivato Jimenez a mettere dentro per il 4-1. Ma noi che siamo qui molto lontano, abbiamo avuto subito la sensazione della parata di Castellazzi. O l'avito era coperto e non si è accorto della sensazione. Sono quelle cose che capisci subito che c'è stata una grande parata. 39 sul cronometro, 4-1 per l'Inter, Maicon. Marica. Prova a metterla morbida per Pandev che si era inserito, senza successo. Jimenez all'indietro, Rubin, Jimenez, Britos, Stankovic, Pandev, sinistro sul forgo. Non mola nulla la squadra di Leonardo, sempre con un atteggiamento aggressivo nella metà campo del Bologna. Recuperare palloni e per poi sfruttare queste ripartenze corte. Qui tocca a Pandev, la conclusione in porta troppo alta. Jimenez. Parte ancora Jimenez, sfrutta un po' di leggerezza della difesa, poi chiude Maicon. È bravo, è bravo con queste percussioni, palla al piede, tagliando il campo e chiedendo l'1-2. Poi la fisicità dei giocatori dell'Inter in recupero, hanno avuto la mente. 40-4-1. Colpo di testa di Portanova. Perez, Rubin, Jimenez, della Rocca. Buono, il pallone per Di Vaio, al volo di destro. Palla sul fondo. Di Vaio, non so se te lo ricordi, aveva fatto un gol anche più difficile. Di sinistro, al volo, nell'altra porta con la Juventus contro il Milan. E poi aveva fatto, ti ricordi, con il risultato, aveva fatto, sono pazzo, sono pazzo, sono pazzo.